ciao a tutti oggi sono qui per farvi un tutorial precisamente su come realizzare dei vestiti per le dolfi che io colleziono ne ho tante vi illustrerò come fare una maglietta come questa praticamente per realizzare il cartamodello vi serviranno queste cose pellicola trasparente per alimenti scotch di carta una matita o pennarelle e una forbice precisamente io userò una luz dolfi bori scusate per la nudità e iniziamo a coprirlo con la pellicola prendete la pellicola io la taglio a pezzi e inizio ad appurcigliare potete fare anche un braccio solo perché tanto le maniche saranno uguali a pezzi a pezzi a questo punto avete fatto tutta la copertura prendete lo scotch e iniziate a coprire la parte della pellicola. Dovrete ottenere questo risultato per essere coperto davanti e dietro. Adesso prendete o la matita o il penarello, io prendo il penarello perché si vede meglio se no insegnate le parti dove andrà tagliato praticamente e ritagliate. Se non riuscite a tagliare bene, prendete una forbicina piccola e così andate più di precisione. Alla fine dovete avere questi tre pezzi, metà del dietro, il davanti e la manica. Io adesso prenderò un foglio e li ricopierò sul foglio così li avrò più precisi. Prendete i vostri pezzi e ricopierateli. Il davanti potete anche farne in metà così viene più preciso. Ritagliate intorno ai bordi e avrete già un po' di più. Prendete il vostro stampo da poter fare questa maglietta oppure altre se la fate anche a manica corta. Spero di esservi stata utile. Ci vediamo al prossimo video e se vi è piaciuto mettete mi piace e seguite il mio canale. Alla prossima, ciao!